Sì e benvenuti! Il personaggio di questa sera è con noi, lo conoscete benissimo, la conoscete benissimo e questo è un motivo per cui siete qui. Ciò che non sapete probabilmente è che più sarà forte l'applauso con il quale l'accoglierete, più l'energia sarà bella, più lei si sentirà bene. Quindi accogliamo con un fortissimo applauso Francesca Michelin. La prima volta che sono venuta qui era il mio compleanno, quindi ho un bellissimo ricordo e allora sono super contenta di essere a Roma perché anche a Roma ho scritto molto di questo disco tra cui proprio scusa se non ho gli occhi azzurri l'ho scritta nello stesso hotel in cui dormo stasera infatti però mi è venuta tipo uno stato di oddio e cavolo è iniziato tutto qui perché è iniziato a Roma questo disco alla fine e quindi è bellissimo essere stasera qui con voi e questa sera appunto sì appunto vi incontrerò, ho detto appunto un sacco di volte grazie a tutti grazie a tutti